La giovane storia della PharmaLabor, officina farmaceutica fondata nel 2001 a Canosa di Puglia, ha radici profondissime che affondano sino al II secolo d.C. agli insegnamenti di Galeno, considerato il fondatore della farmacia. Fino al II dopoguerra preparare i medicinali è stata prerogativa dei farmacisti, ma con l'avvento dell'industria farmaceutica la nobile arte galenica è diventata sempre più marginale, fino a ridursi ad una nicchia, eppure una nicchia importante perché produce farmaci personalizzati per intolleranze, malattie rare e dosaggi speciali. Ed è proprio in questa nicchia di mercato che la PharmaLabor si è inserita, rispondendo ad un bisogno specifico dei farmacisti che allestiscono preparati galenici, il bisogno di disporre di materie prime controllate e garantite, ripartite in piccole quantità. Fino al 2001 in Italia erano solo quattro le officine farmaceutiche, tutte localizzate al nord, che ripartivano e riconfezionavano materie prime per uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Fino a quando Sergio Fontana, farmacista canosino di quinta generazione con la passione per la galenica, ha deciso di creare un'officina nella sua canosa di Puglia, pur contro il volere dei genitori, che gli avevano destinato alla storica farmacia di famiglia. Dopo una via d'impresa ardito in un garage di 37 metri quadrati e con l'aiuto di una sola dipendente, Sergio Fontana in soli dieci anni ha saputo trasformare quel minuscolo laboratorio in un'officina farmaceutica di 11.000 metri quadrati nella zona industriale di Canosa, con 75 dipendenti, quasi tutti laureati, ed un fatturato che l'anno scorso ha superato i 6 milioni e mezzo di euro. L'imprenditore deve credere in un sogno, in un obiettivo, in una volontà di raggiungere una meta, alla fine riesce a realizzarlo, nonostante tutte le difficoltà. La Farmalabor è l'unica officina farmaceutica italiana che ripartisce principi attivi autorizzata dall'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ad effettuare controlli di qualità e al rilascio dei relativi lotti. Un riconoscimento importante, frutto di una rigorosissima catena di controlli su ogni singolo prodotto, dall'ingresso fino all'uscita, passando per le diverse fasi di lavorazione. Farmalabor è l'azienda che svolge attività di ripartizione con il numero più elevato di principi attivi autorizzati. Molti nostri concorrenti si affidano a laboratori esterni perché gestire un laboratorio in buone pratiche è assolutamente complicato, richiede molto impegno. Noi abbiamo deciso di farlo internamente e ci siamo riusciti con grande successo. Il laboratorio di controllo qualità è solo un segmento di una catena di controlli che si estende all'intera azienda, dall'acquisto sino alle spedizioni. L'assicurazione qualità verifica l'intero processo, dalla qualifica fornitori, dal controllo dei processi produttivi, dal rispetto delle procedure aziendali, alla logistica, quindi verifica anche la soddisfazione del cliente. Personale altamente specializzato e un innovativo servizio logistico che garantisce la completa tracciabilità delle merci dal momento dell'ordine alla consegna, consentono a Farmalabor di offrire un servizio rapido ed efficiente ai propri clienti. Questo ne ha fatto un'azienda leader in Italia e in Europa nel settore della produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. La marcia in più di questa azienda è l'offerta di un servizio completo per i farmacisti preparatori. Nature Labor è la divisione che si occupa della produzione di integratori alimentari destinati al mercato della nutraceutica, mercato relativamente giovane in cui l'azienda è entrata con un progetto di ricerca sull'uva di Troia ad acino piccolo. 731 piante di questo vitigno autoctono, nei cui semi è stata riscontrata un'alta concentrazione di antiossidanti, sono state impiantate 5 anni fa in un vigneto sperimentale in località Piano San Giovanni di proprietà della Farmalabor. Ad ottobre 2011 è avvenuta la prima vendemmia. L'estratto di questa uva di Troia è già oggetto di un nuovo progetto di ricerca che è risultato vincente, che abbiamo intitolato Vismaris, che prevede proprio la veicolazione di questo composto attivo nel mangime per pesci, in modo tale che si possa ridurre l'assunzione di antibiotici o di vaccini per i pesci e questo può garantire dei pesci più sani. Proprio accanto al vigneto, curato da due tecnici di laboratorio, sta nascendo un centro di ricerca che sarà intitolato al nonno di Sergio Fontana, suo omonimo. Ma entriamo nello stabilimento Farmalabor, che si sviluppa su due piani. Al piano terra c'è il cuore dell'azienda, 14 camere di pesata, il magazzino dei prodotti finiti e in quarantena, l'area a confezionamento e spedizione. Nelle camere di pesata, a temperatura, umidità e pressione controllate, vengono frazionati i principi attivi. Vi è un reparto destinato esclusivamente alla ripartizione degli ormoni ed uno destinato invece ai multipurpose, dove si frazionano gli altri principi attivi, dagli antibiotici agli antinfiammatori. Una volta controllate, ripartite e confezionate, le materie prime a Marchio Farmalabor sono pronte per raggiungere in tempi rapidissimi circa la metà delle 16.000 farmacie italiane. Ogni giorno vengono evasi circa 700 ordini. Al momento Farmalabor tratta 4.000 materie prime in tutto, 126 principi attivi farmaceutici e poi eccipienti, estratti vegetali, vitamine, coloranti per uso alimentare e cosmetico. Ricerca e innovazione sono vitali per lo sviluppo della Farmalabor, che oltre a collaborazioni con le Università di Bari, Foggia e Camerino, vanta una convenzione con l'Università di Milano. L'azienda ha protetto tre delle sue invenzioni con altrettanti brevetti. Easy Label Pack è una confezione intelligente che, grazie ad un doppio rivestimento in plastica, permette di fornire ai clienti un'informazione completa per una quantità minima di materia prima. Altri brevetti, l'incapsulatrice Optima e l'Optima Tablet, per realizzare compresse. La prima consente di aprire, riempire e richiudere le capsule monodose. La seconda è un sistema innovativo che consente di produrre compresse spatolate senza l'uso di comprimitrice. segni di un successo che, sottolinea Sergio Fontana, è frutto di un lavoro di squadra con un solo obiettivo comune, crescere. Tutti i miei collaboratori lavorano con me, per i loro obiettivi, per il mutuo di casa, per le loro finalità e sanno di poter lavorare con me, non per me.